Salve, benvenuta, come stai? Hai fatto un buon paggio? Sì, sì, dai, fa freddo. Benvenuta a Bruxelles, benvenuta al Parlamento. Ciao Raffaele, come stai? Ciao ambasciatore, come stai? Buon amore, buon amore, buon amore, ma c'è il favore. Ciao Salvelli, Giuliano Giaccharelli. Buon amore, buon amore, buon amore. Buon amore, buon amore. Buon amore, buon amore. Buon amore, buon amore. Grazie. Sono venuta nella casa della democrazia, grazie di essere venuta qua in Parlamento per prima. Sono molto contento di aver scelto di venire qui per la mia prima visita internazionale, qui a Bruxelles e segnalamente qui al Parlamento, posizione chiara che l'Italia ha assunto, che ha assunto già dalla... Intendiamo portare avanti.